Resta sospeso dall'incarico il governatore Lucano Marcello Pittella per l'accusa di abuso d'ufficio e falso per due delle quattro selezioni prese di mira dei PM. Sulla gazzetta ufficiale sono stati pubblicati i decreti controfirmati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che decretano per la legge Severino la sospensione della carica di presidente dell'Aggiunta regionale di consigliere regionale della Basilicata. Il riesame ha confermato i domiciliari che furono già disposti dalla Gipnetis, invece l'ex presidente del Consiglio regionale Mollica su cui grava un divieto di dimora dal 21 giugno scorso per via dell'inchiesta sul dissesto finanziario del capologo Lucano si vedrà semplicemente decurtato lo stipendio per il tempo di un mese. Fondamentale sarà la data delle elezioni di autunno dato che c'è chi ha prospettato un rinvio a gennaio 2019 per aspettare lo sblocco della situazione Pittella.